Ragazzi miei belli, buon pomeriggio a tutti, io sono sciocco basita, già hanno sentenziato, Cialanoglu già è un traditore, Cialanoglu non merita rispetto, Cialanoglu chi ha tradito una volta tradisce ancora, ho letto le parole di Criscitiello dicendo che adesso se ne accorge anche il popolo interista, che un traditore è sempre traditore, chi tradisce una volta lo farà sempre, che lui è un traditore di qua, un traditore di là, ma traditore di cosa, uno si sta parlando ancora di parole accampate quando c'è qualcuno che dice che Cialanoglu è già fatta, domani praticamente va al Bayern, poi leggi Gianluca Di Marzio e ti dice che l'Inter smentisce la situazione, dice che il Bayern corteggia da tre mesi Cialanoglu e che loro sono al corrente di tutto, ma che Cialanoglu è incedibile e che il ragazzo oltretutto vuole rimanere all'Inter e questo è Gianluca Di Marzio, cioè parole sue, le andate a leggere sul suo sito, sul suo Instagram, si leggono a caratteri cubitali. Poi ci sono altri invece che già parlano di tradimento senza ancora che Cialanoglu abbia detto bah, abbia detto una sola parola, senza ancora che l'Inter si sia espressa ufficialmente, senza nulla, solo per voci di corridoio, solo per parole accampate al vento, si dice che Cialanoglu sia un traditore. Ma mettiamo il caso che Cialanoglu dovesse andare via. Ma traditore di cosa? Cioè è da tre anni che è all'Inter, rispetta la maglia, la onora, è migliorato tantissimo, è diventato uno dei più forti d'Europa quando lì era considerato quasi finito, se non finito, al Milan. Viene all'Inter, gli fai alzare il prezzo, lo rivaluti, si comporta benissimo, vuole bene i tifosi, i tifosi lo adorano? Cialanoglu è un traditore qualora dovessi andare via dopo tre anni di Inter? Ha vinto, ha vinto tutto, ha alzato un trofeo in faccia a quelli che lo hanno trattato a pesci in faccia, scusate il giro di parole, e Cialanoglu è un traditore? E perché dovrebbe essere? A mio avviso Cialanoglu, qualora dovesse andare via, per me non va via, o meglio andrebbe via soltanto nel momento in cui l'Inter avesse un'offerta tale da non poterci, da non potervi rinunciare, ma se no Cialanoglu non si vuole muovere da Milano e non si muoverà da Milano, e su questo sono sicura al 100 e 1%, non si cura di più su questa cosa. Qualora dovesse andare via, appunto a caso l'Inter lo dovesse vendere per 70 milioni, 65 milioni, 60 anche milioni, Cialanoglu dalla sponda di Milano Nerazzurra sarà sempre applaudito, sarà sempre a casa, quando tornerà a San Siro avrà sempre applausi scroscianti, perché è così? Perché è un ragazzo che ha meritato il rispetto, perché lo ha dato, perché lo continua a dare. Io sono convinta ad oggi, ve lo ripeto, oggi è 24 giugno 2024, sono le ore 15 e 07, quando sto registrando il video, io sono convinta al 90%, anzi no, mi voglio sbilanciare, al 95% che se non è l'Inter a vendere Cialanoglu per un'offerta Moster, Cialanoglu non si sposta da Milano e Cialanoglu non vuole neanche sapere di spostarsi da Milano. Poi stanno dicendo anche, perché stanno dicendo anche questa cosa, che addirittura Cialanoglu avrebbe chiesto un rinnovo di contratto, dopo che ha rinnovato praticamente l'anno scorso, un rinnovo di contratto a una cifra maggiore, è un prolungamento di un anno ancora se non sbaglio, ma a me non risulta questa cosa, a me non risulta. E che l'Inter abbia detto categoricamente no, quindi guerra su guerra, cioè far vedere che Cialanoglu e l'Inter sono così in guerra, non vi fa onore, non vi fa onore, perché basta, e ieri il mal di pancia di frattesi, e ce l'hanno glutraditore, e questa e questa dove volete arrivare. No, perché l'Inter così si fortifica, forse non avete capito allora come funziona. L'Inter così si carica ancora di più, cioè, oppure gli amici milanisti che oggi dicono, ti prendono in giro, no, ti prendono per i fonelli e dicono, oh, Cialanoglu se ne va, traditore, vi ha tradito. Traditi di che? Cioè va al Baier di Monaco? Che tradimento è? Ma che tradimento è dopo che onora la maglia, perché la nostra l'ha onorata? La nostra l'ha onorata è come? Eh, mi dispiace per voi, ma è così. Sì, forse la vostra non l'avrà onorata, ma dico, chi semina, come si dice, chi semina vento raccoglie tempesta, no? Quindi un motivo ci sarà se la vostra non l'ha onorata. Eh, non è che si è svegliato la mattina e non ha onorato la tifoseria e la maglia così, perché è pazzo. Cialanoglu è un ragazzo con un grandissimo cuore, una gran persona, e questo ve lo posso assicurare. E non perché, come tanti dicono, ci vada a mangiare insieme, o chissà che cosa faccio con Cialanoglu, semplicemente perché so quello che dico, perché ho vicino persone che lo conoscono benissimo. Cialanoglu è una persona rispettosissima. Sinceramente, la verità, proprio la verità, qualora dovesse andare via e l'Inter dovesse fare una plus valenza, io piangerò, mi dispiacerà tantissimo che se ne andrà, perché mi sono affezionata a Cialanoglu, ma comunque gli vorrò sempre bene. E comunque quando tornerà a Milano, per me sarà sempre l'idolo nero-blu. L'idolo nero-blu! Perché alzare uno scudetto in faccia in casa del nemico, quando sei anche un ex, ragazzi, questo non glielo può togliere mai nessuno nella storia a Cialanoglu. Per noi sarà sempre l'idolo nero-blu, punto. E sono sicura che lui non si muoverà mai sotto banco nei confronti di Piero Asilio e di Beppe Marotta, perché lui, l'ho anche detto in un video poco tempo fa, cioè io all'Inter devo tutto, Piero lo sa, io voglio bene all'Inter, io non farei mai niente di male all'Inter, cioè lo ha precisato più volte, ma di che cosa stiamo parlando? E poi devo sentire gente che già, giornali che per vendere due righe del cavolo devono scrivere che Cialanoglu ha chiesto il rinnovo del contratto, devo sentire anche interisti, perché devo sentire anche interisti, perché è una cosa abominevole, non solo gli altri si mettono, si mettono pure gli interisti a dire, eh lo sapevo, ora Lautaro ha chiesto questi soldi, ora parte l'effetto domino, è qua, è là, ma basta, ma che cosa state dicendo? Ma ora magari la colpa è pure di Lautaro? Cioè vogliamo dare la colpa anche a Lautaro? Cioè ragazzi, questo è il gioco delle parti, i giocatori fanno il loro gioco, le squadre fanno il loro gioco, è così, ognuno svolge il proprio ruolo, il calcio è questo, è fatto di milioni di euro, lo sappiamo tutti, ma che cosa insultate i vostri giocatori, che ancora non si sa neanche se se ne vanno o rimangono, già iniziate a insultarli, e ve la prendete pure? Di riflesso con Lautaro Martinez? Ma ragazzi, ma svegliatevi e parlate a cose fatte, anziché dare del traditore già a uno che neanche se ne è andato, ma veramente, ma questa è follia, ma questa è follia, e mi fa incavolare da morire sta cosa, ma ridestatevi, ridestatevi porca miseria, oh, ci scommetterei quello che volete, che se non è l'Inter a prendere 60 milioni in saccoccia, ce l'hanno che non si muove da Milano, qui lo dico e qui lo confermo, condividete il video se siete d'accordo con me, vi abbraccio forte come se fossi lì, e mi raccomando ragazzi, non credete alla qualsiasi cosa che leggete o sentite, per cortesia ve lo chiedo, per cortesia, a conti fatti poi si parla, ma non sparate a zero così, non sono una giornalista, sono un'appassionata, e si vede pure, e si vede pure, sempre e solo forza Inter, sempre e solo forza Inter,